E a questo punto, Greg, vai, dobbiamo presentare Max Palinuro. E' riscappato, vabbè. Niente, è il momento del nostro comico Max Palinuro, è un comico che ormai conoscete, lui partecipa a molti talk show, è sempre molto divertente, molto graffiante, ed eccolo qui, facciamolo entrare, Max Palinuro, eccolo. Max Palinuro. No, rido perché creo la fiducia, no? Se tu ridi il pubblico si predispone, sa che tu lo fai... Hai una cosa per... Oh, scusate, il mio modo di entrare è un po' frettoloso, volevo dire a tutti, sono andato un po' all'ultimo, perché io traggo spunto dagli equivoci della vita, no? Certo. C'è una cosa particolare, ho fatto un po' tardi, ho fatto il mio... Perché, lo sai perché? Perché ho incontrato traffico, ma talmente tanto traffico, ma talmente tanto traffico, è un po' bella morte, perché...